È un progetto dove voi siete un pezzettino, possiamo dire così, di un insieme. Qua la vostra presenza è importantissima, speriamo che per voi questo progetto sia un'opportunità. Sono anche molto felice di rappresentare l'assessorato alla cultura e alla scuola, perché io ritengo davvero che siano i due campi attraverso i quali le donne e gli uomini, soprattutto le donne, possono trovare davvero le proprie strade di autonomia e di indiferenza. Il lavoro libero è tutto, dice tanto, dice soprattutto per le donne, dove il concetto di lavoro sappiamo che è veramente a 360 gradi e non è solamente nell'azienda, così come libera un po' anche il concetto che si fa prima anche la collega dal fatto che la donna veramente può e deve realizzarsi senza sentirsi in colpa da riuscire da un ruolo ovunque.